Benvenuti alla rassegna stampa telegiornale, locale e regionale perché ci muoviamo sulla doppio binario di questa bella e dinamica mattinata di informazione e di notizie. Partirei immediatamente con Roma Today che ci dà il blitz di questa notte ostia, 32 arresti, decapitato il clan Spada, questo è evidente che tutto questo è successivo alla mole, alla massa e messe anche di indagini, di approfondimenti della magistratura e delle forze di polizia che sono arrivati a decapitare il clan Spada. Vedete un po' quella testata al giornalista, cosa ha causato in questi mesi e quale evoluzione ha avuto. Roma Today poi ci dà anche questa notizia che viene dal mondo dei 5 Stelle, è importante perché poi approfondiremo, ormai siamo in vista quasi a poco o più di un mese dalle elezioni, consigliere Agrillina contro il partito di Di Maio nel Movimento 5 Stelle deriva autoritaria perché qui è ovvio che ci sono le candidature, speranze disattese, promesse mancate e via dicendo e qualche spifferone arriva dappertutto. Io vi voglio dare invece la notizia nostra, ve la diamo come reportage di immagine, ecco qui vedete questa mattina cosa è accaduto nella stazione di Vitigna, la metropolitana come quasi normalmente, la normalità ormai è diventata straordinaria, viene bloccata, c'è stata una porta che non si chiudeva e quindi vedete quella massa di persone che è stata fatta scendere, attimi di nervosismo, grida, improperi, tutta gente che deve venire a Roma per lavorare, quindi potete immaginare le problematiche personali e i disservizi sulla rete, vedete che adesso stanno togliendo dopo una decina di minuti il convoglio che è vuoto con una porta che è sempre aperta e dovrà arrivare un altro convoglio straordinario, quindi Morale della Faola un'ora e mezza che ringraziando i servizi, vedete qui qualcuno che trova il tempo anche di farsi qualche bel selfie e questa è la storia quotidiana, mattutina di quello che accade a Roma nei trasporti, una solita mattinata di ordinaria follia e disservizio, questa è Roma, andiamocena adesso sul tempo e qui troviamo l'altro terremoto che francamente accostato a Pirozzi, sindaco di Amatrice, ci riporta alle scene tragiche del terremoto che colpì quelle zone un anno e mezzo fa ormai e però il terremoto in questo caso è elettorale perché nel centrotesta il caos elettorale continua, noi ancora la bemus candidatus non lo possiamo proclamare perché passo ogni giorno vi diciamo che sta per arrivare il nome del candidato del centrotesta che non arriva, sapete che il centrotesta ormai da tempo zingaretti, perché è arrivato lo stop a Parisi, perché il sindaco di Amatrice non si arrende e ha creato veramente una situazione magmatica all'interno del centrotesta perché lui non molla, i sondaggi in qualche modo lo accreditano sempre di più perché è l'unico che non molla, Renzi e Tagliani mi hanno offerto di tutto, Renzi e Tagliani mi hanno offerto di tutti, quindi c'è un mercato come quello calcistico che verrebbe la stella di Pirozzi sempre più stagliarsi e brillare, questa è la sua visione che noi certifichiamo, vi garantiamo che a Pirozzi la vede proprio così, resta un giorno solo per trovare l'intesa, vedremo cosa accadrà. Se andiamo, lasciamo brevemente il tempo su cui poi ritorneremo, vedete l'articolo del messaggero, centrotesta nel Lazio si tratta su Parisi, quindi il messaggero a differenza del Piroziano Tempo continua a dire che in realtà Pirozzi emerge perché non emerge il nome, ma il centrotesta continua a insistere su Parisi, mentre nel PD e l'Ite sui collegi Labbonino dovrebbe venire a Roma, Lazio con clave ad Arcore per sciogliere il noto Parisi, ecco perché si dice sopra nel Lazio centrotesta nel caos e continuano le consultazioni, il manager vuole garanzie da Forza Italia, perché ricordatevi che Parisi, milanese, socialista, manager, è stato già candidato in Lombardia contro Sala e ha perso ma di poco, quindi è diciamo un perdente di successo, mettiamola così, e in questa sua dimensione sarebbe paracadutato nel Lazio di cui poi ha scarsa memoria il manager di Garanzia delle Forze Italia sul progetto del suo movimento, perché Parisi poi è un movimento che ha fondato, Pirozzi resta in campo e avverte, 48 ore palle, anzi poi vado da solo, perché Pirozzi non molla, o vado con una coalizione o mi candido da solo. Berlusconi fa sondare il leader di Energie per l'Italia che è Parisi, 5 punti sopra gli altri nomi della coalizione, quindi i sondaggi dicono che è Parisi e se noi poco poco conosciamo Berlusconi diciamo che sarà Parisi. Torniamo velocemente sul tempo, sul tempo ci dà sempre sulla campagna elettorale, Boschi e Renzi in questo tempo di oscio che ride i due perché dice la Boschi, Bolzano e Rezzo in fondo quant'è di macchina? È un'ora e mezza, ma anche di meno dice Renzi perché la vicenda che qui è rassunta veramente in maniera formidabile ci dice che il PD e Renzi hanno candidato la Boschi nel seggio più blindato che ci sia, ovvero in Sud Tirolo o Trentino Alto Adige. Vedete che però la storia angustiante è della quindicenne che finisce in coma etilico a scuola, coma etilico a scuola, al liceo Russell sulla Tuscolana in autogestione, occupato in autogestione sconvolta la mamma, ma come è potuto accadere? E come è potuto accadere? Ubbiagandosi di vodka, vedete anche l'altra notizia sulla sanità, il tempo ha aperto da tempo, scusate il gioco di parole, ma tant'è un osservatorio, un riflettore, ha acceso un riflettore sulla sanità romana scoprendone di tutto e di più, vedete l'altra notizia invece che questa potrebbe essere da vignetta vera, sprechi capitali, c'è un'inchiesta, i banditi non entrano nella panda dei vigili, li hanno arrestati ma non ce l'hanno fatta neanche a metterli dentro. Lasciamo il tempo, lasciamo il messaggero, veniamoci sul Corriere della Sera che noi qui vi proponiamo perché alcol e droga, questo per dirvi di quanto la notizia del liceo Russell e della studentessa grave che è stata ricoverata come etilico ha guadagnato la prima pagina del Corriere della Sera e devo dire che queste vicende scolastiche purtroppo quasi sempre provengono da Roma. Andiamocene al messaggero e vedete che anche il messaggero oltre alla vicenda dei Dazi, oltre alla vicenda delle scimmiette che abbiamo profondamente già approfondito nella segna stampa poc'anzi consumata insieme a voi, vedete Roma, Vodek in classe, nel liceo auto gestito, 15enne in coma etilico, la madre della ragazza ci dice, sta meglio ma è stato terribile, i genitori, era per scommessa, il caso dei mancati controlli ed è questo un problema sulla didattica anche, sulla vita nelle scuole, sulle famiglie e tutto il resto che bisognerebbe accendere più di un faro di controllo ma anche di educazione. Vedete poi la notizia sulla Roma e Lazio che ieri hanno giocato nei recuperi di cui diremo più tardi. Andiamocene invece sull'articolo del messaggero sull'Alitalia che so che vi sta molto a cuore, non solo perché detenete sicuramente punti millimiglia che non sapete come utilizzare, ma perché Alitalia proroga per il contratto ma non si ferma l'esodo dei piloti perché i piloti ovviamente sapendo che qualcosa accadrà e non sarà molto positivo perché chi compra vuole tagli occupazionali se ne vanno. Vertici, commissari, sindacati, altre 40 uscite, altri 40 piloti se ne sono andati, pesa anche l'incertezza sui tempi del salvataggio perché questa compagnia tutti la vogliono e come la sora Camilla nessuno se la veia perché sta sempre lì e noi continuiamo a pagare. Dall'inizio della crisi hanno lasciato la compagnia 70 comandanti, traffico record per Fiumicino nel 2017 perché questa è l'altra notizia sottesa, il traffico a Fiumicino nel lab più importante del centro meridione continua a salire, continua ad aumentare. Conclusione sulla Gazzetta dello Sport, la Lazio al terzo posto e Giego all'addio punto interrogativo vedremo come farà il duo super market Pallotta-Monci a vendere un giocatore che salva la squadra all'ultimo minuto però l'Inter sta sul pastore ma per queste vicende di mercato andate sul nostro sito dell'ambiente.it per tutti gli approfondimenti salutiamo Valentino Rossi che torna a gareggiare e a farci emozionare ci vediamo domani mattina voi però oggi stasera Maria Elena Eggeri con gli approfondimenti serali del Tiro Giornale dell'Ambiente. Buona mattinata, buona giornata a tutti.